che ti ricordi? mi ricordo la strada che scendeva giù stavo transitando sentito il rumore sordo e ho visto la strada che che andava giù e io andavo giù con lei ho pensato al peggio poi ho avuto la fortuna che sono finito non so neanche io dove perché dopo ho rivisto la mia macchina sei svenuto? non sono svenuto sono rimasto lucido ho chiamato subito i vigili del fuoco per avvisare della situazione per farmi venire a prendere poi ho chiamato la mia famiglia subito ti senti miracolato? mi sento miracolato sembrava di stare in una firma ma cosa hai visto quando ti è entrato fuori? ma niente ho visto lì i soccorsi che sono arrivati diciamo vigili del fuoco diciamo tutti è stato scioccante è stato scioccante perché ho l'immagine davanti a me della strada che va giù c'erano altre macchine? sì ho visto altre macchine anche perché comunque è un'ora abbastanza trafficata una delle strade abbastanza trafficate è impensabile che possa succedere una cosa del genere in italia mi dispiace dove stavi andando? andando a genere